Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo di cubi Allora ragazzi siamo qua anche oggi con un nuovo episodio di un mondo di cubi Siamo stati un paio di giorni senza portare avanti questa serie Perché è cominciata una nuova serie ovvero Treecraft che vi sta piacendo moltissimo E quindi ho pubblicato un paio di episodi quella serie Poi è uscito anche lo snapshot, hanno introdotto i vetri colorati Comunque rieccoci Allora mi avete detto che sembra una sottiletta Avete ragione, avete ragione è una sottiletta Non è che sembra, infatti mi sono ispirato a una sottiletta Ho ancora 27 pezzi, non pezzi, pezzi di handstone e li utilizzerò meglio possibile Perché ho il volume 100% Forse perché ho riscaricato la versione 1.6.4 Perché poco fa avevo fatto il video, cioè poco fa, ieri ho fatto il video dello snapshot E allora ragazzi, cosa facciamo in questo episodio? In questo episodio dovremmo finire gli ultimi due obiettivi E anzi, possiamo anche cancellare Perché, oddio, qua a parte che è da modificare Perché abbiamo raggiunto i 350 iscritti Grazie a tutti ragazzi Ehm... Allora, aspettate un secondo Perché clicco e... No, che cacchio sto facendo? Ok Allora, scriviamo ancora un attino ferrovia Ok, ferrovia, la teniamo ancora un secondo Ok Adesso cosa facciamo? Facciamo un piccolo lavoretto molto molto utile Ovvero, tacchete Oddio, dove vai? Tacchete Ok Poi, usciamo di qua Ce l'abbiamo una pala? Non abbiamo una pala, fantastico Però abbiamo una crafting table E abbiamo degli stick E abbiamo anche del ferro Bene Ehm... Ok Perfetto, mettiamo tutto quanto a posto E prendiamo ben 8 pezzettini di... Ehm... No Ok, eccolo qua 8 pezzettini di neve Perfetto Prendiamo la nostra crafting table Craftiamo due cubetti Solita storia Ok E dove andiamo adesso? Adesso andiamo in casa Perché facciamo un'altra farm Che abbiamo già fatto anche nell'altra mappa Che tra poco ci torneremo Anzi, mai penso che questa stagione La prima stagione di umano dei cubi Sia quasi giunta al termine Ehm... Allora, oggi voglio parlarvi di una cosa ragazzi Parliamo un attimo di una cosa Ho notato Cioè... Come sapete io seguo tantissimo Surreal Power Tech4Play L'avevo già detto 100 volte Che sono i miei youtuber preferiti Però... Ho notato che Surreal Sta facendo un sacco di cose Che sto facendo anche io Adesso ho paura Che mi stia... Che mi stia... Mi stia ascoltando Mi stia seguendo anche lui Oddio, ho paura Anche Jerry Anche Jerry aveva paura Che lo seguia Surreal Adesso faccio una cosa molto astratta Ragazzi Assai astratta Anzi no Facciamo una cosa molto più standard Perché dico così? Perché tipo Io volevo... Adesso non è che lo dico tanto per Lo dico veramente Ehm... Volevo cominciare a utilizzare anche io Le snapshot Durante un mondo di cubi Appunto perché ormai la mappa È già malandata Quindi tanto vale Utilizziamola a fondo No? Ehm... Sì ho appena fatto una farm di neve Nel frattempo Invece alla fine ho detto No Non lo facciamo E il giorno dopo Vado a vedere video di Surreal E si chiamava Mi sembra Da oggi uso lo snapshot O qualcosa del genere E... E niente si è messo a usare lo snapshot E... Qua nel frattempo Farmiamo come i pazzi Guardate qua Che roba Ok Oh adesso passerò Un bel po' di tempo A fare questo Vero? Che due scatole Mmm... Ok No Farò un taglio Tadde tranquilli Anzi Lo farò direttamente off camera Facciamo così va Tanto qual è il mio obiettivo È semplicemente questo Fare un po' di queste pale di neve Andare da una crafting table Andare qua con la neve Far tacche 48 pezzi Ne abbiamo dei altri Pezzi qua nelle casse Mi sembrava di sì Però qua non ci sono Cavolo Niente neve Però abbiamo della neve già fatta Quella qua Ok Ottima notizia Ok 60 E... Notte No Aspettate Devo uscire Sì Allora Vado a posare la neve Ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Rieccoci Finirò di fare i lavoretti Off camera Anzi Facciamo un bel lavoretto Questa roba la mettiamo qui Ok Allora sto Mi sto preparando Per fare appunto L'obiettivo di oggi Che è Farmare i rail Perché farmare i rail Perché appunto Bisogna fare la ferrovia Che vi parlavo Vi ho parlato meglio In questi episodi Che collegherà Questa mappa Questa zona Alla vecchia zona E... Poi appena avrò finito Quel lavoro Penso che farò Molti backup Perché ritorneremo Nella zona Dove c'era stato Il chunk Ah anche il chunk reset È una di quelle cose Che ha avuto anche Surreal Avete visto? Ve lo dicevo Che prima o poi Tutte le sere Che seguite Avranno avuto Un casino del genere Tutte quante Perché Cioè Prima o poi Le mappe invecchiano Soprattutto le sere lunghe Cioè Allora Comunque Che cosa facciamo oggi? Prendiamo la nostra barchetta Anzi posiamo Anche beh Bohmil ce lo portiamo A sto punto Non torno indietro Per un po' di Bohmil Ok devo tornare indietro No dai No ma perché Perché Mi sono Ho creato Questo stupido ponte Che non mi lascia scappare Oddio Adesso me devo fare a mano Ok Non guardate Sto pezzo Noiosissimo Perfetto Ok Allora ragazzi E... Tra l'altro Quando salgo sulla barca Mi dice ancora Se voglio scendere Da cavallo Bohmil E' logicamente Un bug E... Cosa volevo dire? Cosa volevo dirvi Ragazzi Volevo dirvi che E appunto Ho trovato una miniera Qua E... Una miniera E quindi Andremo lì Perché nella miniera Ci sono Le Ho una crafting table? No 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 Non ho una crafting table Quindi Prendere un pezzo di legno Si mi sembra Mi sembra Ah no Aspettate C'è legno anche nelle miniere Se non sbaglio Credo di averla trovata là Lavorando off camera Farmando un po' di sabbia Per fare il vetro Che avrei dovuto Utilizzare nel faro A proposito di faro Non so se Metterci qualcosa di luminoso Sopra O no Io dovrei lasciarlo così Ma si Perché se no Poi le Quelle poche cose belle Che faccio Le rovino No Lasciamo stare Allora Urge del carbone Cioè siamo venuti qua Proprio attrezzati Malissimo Ma va bene Va benissimo Ok Allora Tacate E tacate Perfetto Ok Cominciamo Allora se non sbaglio Era qua da qualche parte Si Di qua Oh ferro Già Molto bene Sì Quindi questo episodio Sarà un episodio Un po' di avventura Anche perché sono solito Fare episodi Di avventura Dopo Quando diciamo Sono un po' di episodi Che non registro Cioè un po' di giorni Che non registro Mondi Cubi Allora E tra l'altro Davvero Sono veramente Molto impaziente Di questa 1.7 Voglio Voglio assolutamente Creare la nuova mappa Creare tutto quanto Tra l'altro Anche lì sur L'ha creata la nuova mappa Saranno coincidenze Va bene dai Cioè Sicuramente sono coincidenze Non penso che Surreal Power mi segui Però Non si sa mai ragazzi State attenti Anche Mnemonic Che fa le mod Mnemonic Se sei attento Ti potrebbe seguire Luke Allora Detta questa cagata Abominevole Perché ho visto Un glitch Oh no niente Come non detto Di qua si sale E mi hanno insegnato Che di solito Bisogna scendere No? E invece salgo La regola è questa Salire Lì sono delle Liane Ok bene Ok Delle Liane nella caverna Sono piante Carnivore Cavernivore Ecco Cavernivore Allora Basta di ricagate Andiamo a Qua prendiamo ancora Un po' di carbone Perché ci serve per le torce Anche lì volentieri No scherzo Il carbone non resiste Devo prenderlo sempre Utilizzeremo solo Piccoli in ferro Perché ho fatto un salto Nella vecchia zona Sono andato a prendere Un po' di ferro Dalla farm E ce ne erano Tipo 50 pezzi Sì E allora Eccoci qua Questa qua è la miniera Allora Sì magari Diamo una pulita Sento già I mob I mobini Qua c'è un bel po' di roba Allora Ho un'ascia Sì bene Ho un'ascia Perché mi serve un po' di legno Si sto facendo una delle cose Più brutte che si può fare Proprio prendere legno in miniera Vado a minare il legno Ragazzi ecco Mamma mia Ok eccoci Prendiamo anche queste Giusto per non lasciarle Lì forever alone Ok Oh Mio dio Sento uno scheletro anche Sì Beh lasciamolo stare Dov'è Non farà del male nessuno Vero scheletro Che te ne stai bravo No Qualcuno mi dici No Dove sei? Ti sento Però non ti vedo Beh pazienza Alla c'è un pipistrello Ok mi sto già prendendo paura Ok Eccoci qua Là c'è un creeper Guardate qua che Scenario Epico Pap Creeper dove È sparito il creeper Lo rincontreremo Qualcosa mi dice Che lo rincontreremo Stupido pipistrello È colpa tua Non so di cosa Ma è colpa tua Ok Opa Attenzione Eccolo qua Le nostre rail Che volevamo Perfetto E anche se È un po' stupido E cioè È un po' stupido Farmare i rail Quando ho una farm di ferro Però va bene Sì lo so Che si possono raccogliere Anche con le mani Però col piccone Si fa molto prima Allora Ecco perché Sono venuto in miniera Anziché Dalla farm Sento Troppi scheletri Oh oh Guardate Rail Ecco Perfetto Perfetto Vediamo tutta sta roba Ok Qua c'è il creeper Vero? Aia Maledetto No 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 Quanti siete? Via Dove sei Arcere? Non c'è Allora Calmi Vediamo di non fare mosse Troppo azzardate Anche perché Buonasera No L'avete sentito anche voi C'è un baby zombie Dove sei? Oddio ragazzi Tutti in miniera oggi eh Sì Potevo inventarmi qualcos'altro Allora Andiamo di qua Comunque avete visto ragazzi Che me e Monica Ha trovato la stronghold Cioè io ci sono rimasto malissimo Ha trovato la stronghold Cioè la land Così senza enderper Senza niente Così sciallissimo Esce Mina un po' E trova Mamma mia va Che cuore Che cuore Ok Mettiamo un po' Una torcina E facciamoci E facciamoci Ma qua mi ha droppato un arco Il gentilissimo Guardate quasi un arco pieno Eccole qua Carbone Torce Ne facciamo finchè vogliamo Allora Buttiamo via questo Ok Direi che carbone Possiamo anche non prenderlo più Perché altrimenti L'episodio diventa Noiosamente E vediamo un attino Anche a quanto tempo siamo Perché poi arrivano episodi Di più di 20 minuti Cos'è Incaricabili Ah tra l'altro Ho Modificato ancora La descrizione Del mio canale Mettendo le FAQ Ovvero le domande Più frequenti E ho messo Anche la connessione Per evitarvi Di cliccare Di fare 5 cm Di spostamento Col mouse Ve lo dico direttamente io Ovvero Oh Cioè adesso mi deriderete Perché sono Lo confrontate con I miei amici Skype Che ho su Skype Fan veramente Cioè le mie Sono le peggiori In assoluto Allora Cominciamo dal ping Il ping È Il ping Meglio Perché è una maialata Appunto È al 95 È a 95 E ho fatto lo speed test Non so Me l'ha linkato Un gentile utente Sulla pagina Facebook Lo ringrazio Tra l'altro E Grazie gentile utente E Voi niente ragazzi 95 di ping Già Cioè Mnemonic è a 45 O 47 Voi super giù Di lì E Che cos'è il ping Penso che sia tipo Penso Perché io Non è che mi interno tantissimo È il Tempo di attesa Comunque Il ritardo che c'è Di connessione Così così E Sì Fa abbastanza schifo Vi ripeto Ok qua abbiamo Bene o male preso tutto Torniamo di qua Altrimenti ci stiamo Tre anni Qua magari mettiamo Una torcina Ok E Ricominciamo a prendere Le gentilissime rail Creeper Cosa fai lì? No Maledetto va Vai a farti un giro Vai Muori Muori Guardate lì Quanta gente Che c'è Oddio Ok C'è decisamente Troppa gente Mamma mia Vieni qua Vieni qui Creeper Ah L'accia un altro Minecart Con la chest Muori Si è sporato Avanti a me Stavolta Sto zombie Del cavolo Allora Calma Qua c'è un bellissimo Dungeon ovviamente Vero? Si Ok lasciamo un attimo Stare Andiamo di qua Ok zombie E È rotto Allora Lì c'è un creeper Ok Qua Abbiamo Un altro creeper Vero? Si Ti vedo Inutile che ti nascondi No Ok Prendiamo altre rail Perché vi ricordo Che l'obiettivo di questa spedizione Sono le rail Non Ah ma aspettate Ma sono scemo? No ma ditemelo Ditemelo nei commenti Sono scemo Se no Voi mi risponderete di si Però Qua c'è un ma Ok È una merda Come non detto Come non detto Uh lì c'è un minecart Lo voglio Cosa butto? Ah Queste torce Le mettiamo qua così Ok Attacchete Ticchete Ticchete Oddio Qua non c'è niente Ok Allora Sto girando abbastanza a vuoto Dai su Voglio trovare qualcosa Beh a parte che le rail Le sto trovando Quindi non mi devo lamentare Perché la spedizione È per le rail Giusto? Questa La rompiamo No abbiamo delle cesoie No Sarebbe un item Da portarsi più in giro E me lo evito volentieri Allora Lo spero di non cadere Nella lava Allora c'è anche un gentilissimo scheletro Un po' glicciato Oddio Sento Mostre di VWR Ok Vediamo un po' Io voglio esplorare anche Però eh Dai dai su Come questo episodio si chiamerà Farm di rail O qualcosa del genere Ok Lì vedo Roba interessante Interessantemente Io piazzo di torce nell'acqua Ovviamente Allora lì c'è dell'oro C'è dell'alloro Ok Là vedo anche un buco Che senso? Non lo so Fate voi Andiamo di qua Non c'è niente Allora Appena questo benedetto oro Cosa buttiamo? Niente Non buttiamo assolutamente nulla Cioè io sono venuto qua Praticamente con l'inventario già pieno Sono un genio Allora Oh buonasera Scusi non l'avevo vista Però anche lei poteva Almeno citofonare Allora Qua sento Io vorrei trovare un dungeon Lo sai? Sì che lo sai Perché voglio l'armatura dei cavalli Ah ma tu non puoi passare di qua Lol Tro lolololol Ok Passiamo di qua Opla Niente Niente Allora No Shit Creeper Non è un bel momento Anche se ti li Tutti qua da me Grazie Però io vi lascio lì tranquilli Guarda Allora Tutti lì Guardate quanti Maledetti Bastardi Cioè giustamente però Non guardo neanche dove metto i piedi Quindi me lo merito Ah guardate Sono riuscita a risalire No Come non detto Allora Tac Di qua c'è qualcosa Adesso mi perderò nella caverna Sicuramente L'episodio verrà lunghissimo Finisco tutti così I miei episodi in caverna Non trovo niente E viene lunghissimo No scherzo dai Di solito trovo tanti bei diamanti Però finché resto a Altezza 32 Non penso di trovarne i diamanti Anzi Sicuramente non li troverò Allora A meno che non trovo qualche mine Carte paraculato Cos'è così Ma è impossibile Allora 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 Prendiamo un po' di ferro Sì il ferro mi piace un casino Anche se ho la fame di ferro infinito Che tra l'altro Alcuni di voi mi hanno detto Che tipo Cioè Mi hanno fatto notare Che Sembra anche lì Che l'ho copiata Surreal Ma in realtà Se voi guardate i video L'ho portata Sul mio canale Molto prima di Surreal Stupido Scheletro Ehm Certo tutti quanti mi scrivano Nei commenti Tipo Vuoi fare cattiva pubblicità Surreal No Niente Anzi Lo seguo Surreal Però Visto che Voi siete prima A farmi notare Che Sembro io Che copio tutti quanti Vi faccio notare anche io Che non è così Però scusate io Giro con dei semi di Zucca Ciao Brutte persone I semi di zucca Lasciateli stare Creeper vai via Creeper Creeper Non mi devi seguire Bene Allora Mi sento sempre seguito Dei creeper Anche io Comunque A quanto stiamo Con le Oh Molto bene Discretto Discretto buttino di rail Ok E Verrà una ferrovia epica Si la farò Principalmente Lascio un minecart No Però voi non vedete niente Dovete dirmelo Che non vedete ragazzi Ok Qualcosa c'è di bello Niente Mh Niente di qua Ok Ehm Cosa altro vuol dire Comunque appunto La ferrovia sarà Nel nether Ho già Fatto un piccolo lavoretto Sarà un lavoro Che farò Principalmente Off camera Ok Rieccoci Ok qua c'è la solita lava Perfetto Andiamo di qua No Andiamo di qua Io voglio Le rail Vi ricordo Voglio solo le rail Basta Perché sento degli zombie Beh probabilmente perché ci sono degli zombie Sì Penso che Sento degli zombie perché ci sono degli zombie Questa è sicuramente l'ipotesi What the fuck C'è della lava qua sopra So che me ne pentirò Sì Mi sono già pentito Ok Ehm Chiudi tutto E scappa Creeper Buonasera Ah Aspetta Ci penso io Dai pure Li fermo Lol Allora Ehm Spara Maledetto Hai sparato veramente Se fossimo stati nel vecchio western Avresti vinto te Però siamo in Un mondo di cubi Ah Aiuto Aiuto Ok Quanti siete Ah giusto Perché Qua si spawna Gente così Perché qua c'è un Ciampi di terra Intanto trovo Sti ciampi di terra Che non so Bene Che cosa Servano Probabilmente niente Ok Qua Non trovo assolutamente nulla Mamma mia La Miniera più triste Che io abbia mai trovato Ragazzi Dai su Qualcosa di un po' carino Dai Please Dai dai Qua ci sono le solite rail Beh alla fine Siamo qua per le rail Quindi Non ci dobbiamo lamentare Qua c'è della lava Che Si fa un bel giro Allora Qua facciamo una mossa Un po' Parkouristica Ok Inutile Soprattutto perché di qua Torniamo dove eravamo prima Oddio Quindi devo ritornare di là Qua c'è una ragnatela Che mi fregherà assolutamente Se non ci sto attento Quindi Andiamo di qua Torcia Sto facendo andare più torce Che non so cosa Allora E Di qua Dai su Uh Dungeon Dungeon Dai avvicinati Come on Maledetto Ti sei avvicinato Ho sentito che ti sei avvicinato Me ne sono accorto Opla Si E basta Cinque secondi ancora Ah Godiamoci questi cinque secondi Avvelenamento ragazzi Basta Meno male Ok Tappiamolo Completamente Perfetto Allora Bear Grylls Gris me ha insegnato Bisogna passare di qua Sì sì Proprio bene Gris me l'ha insegnato Ragazzi Allora Mercoledì Mercoledì per non dire altro Ed è logicamente Finisce la caverna L'ho Ah no Come non detto Via Si sta usando la spalla in diamante per tagliare dei fili E la sto semplicemente rovinando Semplicemente Però Va bene Nessuno Se ne Se ne Accoroggerà mai Vero Ok Opla No Buonasera No Aiuto Aiuto Sparate a soli Bravi combattete Dai Chi vincerà Dai zombie Su Ma perché Zombie Forza Scheletro Lascia stare lo zombie Perché vi picchiate Doveste combattere contro di me Stupidi Allora Ma chi è che continua a fare Beh lo zombie lo so Allora Tacate Buonasera Perché ce l'ho oggi con sto buonasera Non lo so Oh La No Vieni WATATATATATATATATATAT Che ninja Ninja provetto Eeeh Diamante Una sella Così uno di quei cavalli No Devo prendermi il diamante Soprattutto Questo lo mettevo Mi sento osservato E probabilmente lo sono Però va bene Allora Via il filo Ok Il resto ce lo apigliamo Allora Buttiamo via un po' di cose Ho capito Via 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 Minecraft lo teniamo Ok Cominciamo con le rail Sti runni Non so voi Ma mi hanno veramente Scassinato Le va Vole Ok Cosa c'è Ho ho Sì Vediamo un po' Sì sì sono runni Sono runni Haha dungeon No 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 Vai via Vai via Allora calmi Calm Calma Ok Cavolo Muori Ok Chiudi tutto Chiudi tutto Chiudi tutto Spegnilo Spegnilo Sì Accendilo Spegnilo Cosa sto dicendo No No Non ci posso credere Ok Ci vediamo tra poco Ok Rieccoci Sì Non è una delle più belle situazioni In cui io sia mai stato Ma Cerchiamo di uscirne Vero Ah non c'è nessuno Che cuore Ok Vediamo un po' No No Volevo una sella Calma Allora ragazzi Direi che Per questo episodio è tutto Io come al solito Vi ringrazio Che bello È anche stato Vedermi morire So che molti Dovoli hanno avuto Hanno goduto Vedermi morire Dov'è la mia Il mio busto No No L'ho perso Va bene Ah no Eccoli Ah qua ci sono altri Miei drop Drop di ferre Cosa drop a ferre Quando viene killato Dio mio Poi per un dungeon Di ranni Che avevo già Lo rompo Beh ragazzi Comunque lo faremo poi Nel prossimo episodio Io Come al solito Vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti